Voi avete avuto come staff tecnico allargato la possibilità di lavorare ovviamente con queste ragazze molto giovani, peraltro molte provenienti dalle finali nazionali e anche alcune dalle finals di A2, quindi alle prese con un periodo di lavoro e un carico sulle gambe, sul fisico notevole. Sicuramente per loro è stato un periodo molto stressante sia dal punto di vista fisico che mentale, però nonostante questo hanno comunque messo in ogni allenamento tutte le energie residue, sempre sia a livello mentale che fisico e penso, io l'ho detto subito, che siano delle ragazze fortunate perché oltre al fatto che hanno fatto tante partite, quello sicuramente è stato un carico importante, però poi hanno avuto l'opportunità di venire qui, in questo campus organizzato molto bene. Io penso solo al fatto che spesso bisogna andare all'estero per affrontare questi periodi di perfezionamento tecnico e invece loro sono state fortunate proprio perché tante persone dello staff, tanti allenatori pronti a seguirle, a suggerire dei trucchi, delle indicazioni tecniche, anche delle indicazioni psicologiche, la possibilità di vedersi in video appena finito l'esercizio oppure anche di affrontare delle sedute video specifiche in base ai ruoli. Questo modo di lavorare secondo me è stato importante e spero che ognuna di loro porti a casa un messaggio per arricchire il loro bagaglio personale. Per di più c'era anche la possibilità di socializzare, maschi, femmine. È stato un momento veramente intenso, però fondamentale per loro. Noi siamo peraltro nella casa della Pallamano, il centro tecnico federale. Per un giocatore, un giovane giocatore o una giovane giocatrice italiana di Pallamano oggi da qui in avanti cambia tutto perché potersi allenare qui e entrare qui insomma in un'atmosfera tutta azzurra crea effettivamente un'atmosfera diversa rispetto a un semplice raduno, a un semplice stagio della nazionale. Sì, per quanto mi riguarda sicuramente già deve partire dall'interno il fatto di sentirsi prima di tutto un atleta, poi un atleta della nazionale uno step maggiore, però entrare qui già i colori che si vedono qua l'aria che si respira, qualsiasi cosa qua fa respirare Pallamano e penso che sia importante anche questo per appassionare ancora di più queste ragazze. Io sono convinta che anche loro stesse si sentano e anche i ragazzi si sentano fortunati ad aver partecipato a questo campus, poi il fatto che tutte le nazionali passino da qui che la commissione tecnica, gli allenatori si stiano formando in questo posto penso che sia un messaggio importante da portare avanti è una base da cui partire ma penso che sia la strada giusta perché tutto questo può solo che appassionare di più tutti. Questander 17 ovviamente ha anche un appuntamento ufficiale, il debutto per la verità in campo internazionale, ecco proviamo a tracciare una linea, avrete altro lavoro insieme però come ci presentiamo a questo appuntamento? Sì purtroppo a causa del Covid l'anno scorso è stato un anno in cui non hanno potuto fare il loro debutto a livello internazionale, quindi diciamo che è questo dopo un anno e questo è il loro inizio in una nazionale, infatti c'è anche questa emozione da parte loro la nomina del capitano, il fatto di affrontare un collegiale per così tanto tempo e in questo spazio e il fatto anche che manchi poco tempo a un appuntamento così importante sicuramente potrebbe essere un carico ma non la stanno vivendo così nel senso che comunque giorno dopo giorno stanno acquisendo la loro identità soprattutto come squadra e come gruppo che sta bene insieme e poi anche a livello tattico stiamo cercando di inserire quegli elementi di semplicità ma anche di essenzialità che sono importanti per affrontare delle partite con delle compagini che sicuramente pari età ma che sicuramente ci daranno del filo da torcere Lavoro specifico per quanto ti riguarda al femminile, sui portieri che tipo di lavoro è stato portato avanti innanzitutto? Sì, è stato un periodo abbastanza lungo e abbastanza intenso la settimana scorsa in particolare per le ragazze è stato un periodo di allenamento molto incentrato sull'aspetto tecnico, sulla cura della loro tecnica e quindi per quanto riguarda i portieri abbiamo lavorato per il tipo di parata da fare a seconda della posizione di tiro e credo che abbiano avuto tante informazioni che potranno poi aiutarle nella loro crescita è stato un periodo comunque interessante anche per noi allenatori perché abbiamo avuto modo di confrontarci e di provare insieme anche cose nuove adesso ci aspetterà il periodo con l'anno 19 e lì il lavoro sarà un attimino diverso perché dobbiamo insomma preparare questo campionato europeo Abbiamo visto peraltro un lavoro sicuramente particolare perché ragazzi e ragazze hanno lavorato insieme, i gruppi erano uniti nel lavoro sul campo con sedute specifiche anche voi allenatori avete avuto continuamente e continuate ad avere la possibilità di confrontarvi ecco questo come influisce ovviamente in positivo sul lavoro e sulla crescita sia dei giocatori che dello staff tecnico Assolutamente influisce in maniera positiva a mio avviso il confronto continuo aiuta a crescere sia noi allenatori sia i ragazzi che hanno quindi la possibilità di sperimentare nuove cose, nuovi suggerimenti e comunque avere a disposizione tante persone che si prendono cura di te e di te atleta è comunque sicuramente importante